Credo che il fatto che il ponte sia il ripreso dal nostro Leonardo da Vinci dietro il suo famoso quadro della Gioconda abbia giocato molto nell'interesse del pittore. Sono arrivati da tante città italiane, Taranto, Lecce, Siena, Milano, Perugia, Rimini, Firenze. I pittori che hanno partecipato a Pontemporanea, un'estemporanea di pittura che si è svolta domenica 12 settembre sulle rive dell'Arno, nello splendido scenario di Ponte Buriano. Un evento in un posto su cui gli artisti hanno lavorato con piacere e lavoreranno con piacere. Un evento che ci riempie il cuore, un evento molto partecipato e non ce lo aspettavamo, anche perché è una prima edizione e ci sono varie estemporanee mostre in giro. La manifestazione, organizzata dalla Fondazione Guido d'Arezzo e dall'Associazione Culturale Arteco, con la collaborazione della Cric di Ponte Buriano-Cincelli e il patrocinio del Comune di Arezzo, ha avuto un successo oltre le più rose e aspettative. Il vincitore è stato l'artista pugliese Michele De Nicolò che arrivava da Taranto. Siamo arrivati a circa 50 pittori. Non me lo sarei mai aspettato perché avrei pensato che già 20 erano un numero molto alto, dato che ci sono tantissime estemporanee in questi due giorni in giro. Però ecco, che mi arrivassero persone da Firenze, gruppi di 3, 4, 5 pittori da Firenze, poi pittori su, da Lecco, da Milano, da Torino, pittori anche già molto quotati. Noi siamo un gruppo di volontari che vengono qui ad aiutare e siamo tutti strafelici di poter partecipare a una manifestazione di questo tipo. Comunque abbiamo una location che nessuno ha e tra le altre cose ci teniamo tantissimo a tenere il tutto più curato possibile perché tutti possano venire e godere di questo spettacolo di ponte.